Ciao raga, io sono Matteo Cilento, anche detto GP008 E oggi facciamo male a gente, a una persona Io ho fatto già tantissimi livelli, mi spiace se non ho fatto questi video, ma non potevo Quindi cominciamo subito, ho già sbloccato un sacco di cose E partiamo qua, amore Lo facciamo così, ancora più in alto, volo, così Per tutto perché guardate Tiè, muori più che puoi Aio, raga Che sta succedendo? E' finito, 3399 monete Dai, poco, ma neanche poco Cioè, ci sta succedendo di meno, ma che è un po' di più Tanto qua fa seri botte Ahia Ahia Raga Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti E' finita così Me l'aspettavo un pochino 500 e basta Andiamo piano Voglio vedere che succede No tieniti Stupido Nabu Allora facciamo così Ok Un pochino dovrebbe fare Attenzione Fa male Sì ce l'ha fatta Dai 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 Fatti male Fatti male Che botta Mi che botta Si è rotta una gamba Mi sa che si è fatto male Ma mi sa e basta dai Può essere che non si è fatto male Che male Soltanto Ah 3075 Non volare Non volare Non volare Vai Vola Aio Fatti male Dai Sì ce l'ha fatta una gamba Acqua Aio Uia Mazzà che botte Si sta facendo male Comunque Aia che male Boing Aspettate Ecco Mamma mia Non vorrei essere Nei suoi panni Che botte Settemila Mannaggia Che male Che si è fatto Vogliamo di più Bambam Che è più E' efficacissimo Gli ha fatto mille Centodieci Soltanto Ora Oh il braccio No Sono tornato indietro 200 batte E c'ha ragione Quindi facciamo così C'è quasi a rifare il bug Dai 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 No Che male E' arrivato un pezzo della moto Che male Mi sa che si fa un po' Maluccio Vai con l'impennata Poi boom Con l'impennata Resettiamo E partiamo Vado 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 Aia Aia Che maluccio Puro Puro Oh 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 Di nuovo al giro Oh Che male Non riesco quasi a vedere Che male Partiamo Dai 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 Vola Vola Grande Grande Che maluccio Oh le gambe Oh Oh la La miseriaccia Mannaggia Non voglio essere proprio nei suoi panni Vai 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 Di velocità Uia Così poco Per una discesa così forte Vai 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 Uia Ulla Ulla Che botta Aia Aia Cosa è successo per un attimo raga Vabbè Raga Io spero che Questo video Vi sia piaciuto E quindi Vi sia piaciuto Grazie a tutti